I concimi in commercio sono di tre nature. Sostanzialmente noi abbiamo concimi organici. Cos'è la sostanza organica? La sostanza organica sono tutti quei residui animali e vegetali che porteranno a un processo di decomposizione. Cioè queste sostanze naturali poi si decompongono. È un po' come quando noi moriamo e c'è una fase di decomposizione. Perché noi dobbiamo immaginare che è tutto un ciclo. E cioè fa parte tutto di un ciclo. Non siamo entità separate. Ecco. Poi abbiamo i concimi minerali. I concimi minerali sono quelli di natura chimica. Ok? E questi qui hanno dei vari titoli. Poi abbiamo i concimi organo-minerali. Cioè nel senso che sono dei concimi in cui l'uomo ha messo una componente organica e una componente minerale. Sostanzialmente come di giusto prima di fare la concimazione.